I dati di oggi sono in linea con quelle degli ultimi giorni, notizie positive per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, i ricoverati non in terapia intensiva e soprattutto i dimessi. Notizie dunque che confermano il trend delle ultime giornate. Sicuramente siamo sulla via giusta, stiamo indirizzandoci verso una graduale uscita da questa situazione veramente incredibile. Questo lo si deve all'impegno che tutti i nostri cittadini hanno dimostrato in questi mesi di privazione di una parte delle nostre libertà, lo si deve alla capacità che hanno dimostrato di rispettare le imposizioni date e credo che lo stesso impegno si debba riservare anche per la ripresa dell'attività. Anche nella ripresa delle attività noi dovremo mantenere certi stili, certi comportamenti che saranno fondamentali per evitare che il virus possa ricominciare a diffondersi. Quindi bravi per quello che avete fatto, ma mi raccomando impegnatevi anche per quello che dovrete fare.